Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo di miglioramento salvo residui e precipitazioni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 14 settembre. Locali fenomeni al mattino su Alpi Orientali e coste del Medio Basso Versante Adriatico. Variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio precipitazioni sparse sul Triveto e sui dettori peninsulari interni del sud. In serate nottata tempo per lo più asciutto salvo locali piogge su Medio Adriatico e tra Calabria e Sicilia. Temperature minime in rialzo al nord e in calo al centro-sud. Massime in flessione al sud e in aumento altrove. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie. 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 Grazie.